Una manciata a piene mani di lusso, una buona dose di comfort e tanta guida autonoma. Il tutto in un design più moderno e rivisto in molti dettagli. Ecco la nuova Audi A8, ammiraglia imbevuta di tecnologia che anticipa gli avveniristici sistemi che caratterizzeranno le auto del futuro. Linee classiche, seppur rinnovate, ma soprattutto Park Pilot e Garage Pilot. Diavolerie tecnologiche disponibili già dal prossimo anno e che faranno lievitare il prezzo della nuova A8 ad oltre 90.000 Euro. Con i motori si parte dal 3.000 diesel da 286 CV, per arrivare al top di gamma rappresentato dal mostruoso V12 da 6 litri di cilindrata per 585 CV della A8 L. Successivamente questa stessa versione a passo lungo sarà venduta anche in variante ibrida con motore 3.000 benzina e un'unità elettrica, capace insieme di toccare i 449 CV. Ma il bello sta nell'intelligenza artificiale, che porta il futuro dell'automobile alla portata di tutti, o quasi. Grazie al cervello elettronico dell'ammiraglia tedesca, i sistemi consentono all'auto di parcheggiarsi da sola o di uscire da un garage per andare a prendere sotto casa il guidatore. Il tutto controllando le manovre da un semplice smartphone. Grazie a tutti.